Edin, innanzitutto benvenuto all'Inter. Grazie mille. Cosa si prova? Quali sono le sensazioni in questo momento dopo la firma con l'Inter? Le sensazioni sono buone, sono molto felice. Questa è una grande opportunità per me e voglio ringraziare i dirigenti, ai mister che mi hanno dato fiducia e che ancora pensano come me e che posso fare la differenza. E cosa ti ha spinto a scegliere questo club e sposare la causa Nerazzurra? Inter è un grande club, campione dell'Italia e questo dice da solo. Già ultimi anni, già sei anni che sono qui in Italia e ho visto cosa significa Inter e adesso posso giocare qui e sono molto contento e non vedo l'ora di uscire sul campo con i miei compagni. Il mister Simone Inzaghi lo conosci molto bene, diciamo come avversario. Vi siete dati battaglia tante volte nel derby di Roma. Hai già avuto modo di parlare con Inzaghi? Sì, sì, ho parlato con mister. Mi ha detto subito, meno male che non giochiamo più contro. Ed è vero, anche se l'ultimo derby l'ho vinto io. Però, scherzi a parte, sono contento di lavorare con mister. Già le cose che ha fatto in ultimi anni con la Lazio dice tutto. Come ho detto prima, non vedo l'ora di iniziare a allenarmi con i miei nuovi compagni. A proposito di compagni nuovi e ex compagni, diciamo così, perché li trovi all'Inter, Alexander Kolorov, avete giocato insieme alla Roma, anche al Manchester City. Vi siete già sentiti? Se sì, cosa ti ha detto? Sì, sì, ci siamo sentiti, ma anche prima ci sentiamo spesso noi. Sembra che non possiamo scappare uno dall'altro, perché eravamo insieme a City, poi a Roma e adesso anche all'Inter. Alex lo conosco molto bene, è un bravissimo ragazzo, un grande giocatore e sono contento di rigiocare ancora con lui e speriamo di fare grandi cose qui insieme. È vero che sei appena arrivato, ma hai già pensato ai tuoi obiettivi per questa stagione con la maglia nera-azzura? Sì, come hai detto, sono appena arrivato. Sicuramente devo vedere tutti i ragazzi, però Inter e la squadra la conosco bene. Inter ha una squadra importante con grandi campioni e sono sicuro che anche quest'anno ci diverteremo e sono sicuro che anche i tifosi saranno contenti a vederci in campo. Hai citato i tifosi, hai un messaggio per i tuoi nuovi tifosi nera-azzurri? No, voglio salutare tutti e mandare un grande abbraccio a tutti e posso dire solo che darò tutto per questa maglia. Grazie e benvenuto ancora. Grazie mille.